Da qualche anno noi collaboriamo con l'Istituto Europeo. La nostra esperienza è stata finora sempre positiva. Per un motivo molto semplice, per potergli rasmettere la nostra stessa passione che mettiamo a questo lavoro. La curiosità. L'alluto lavorativo. Ci sono alcuni settori del nostro mestiere che abbiamo notato e loro sanno svolgere meglio di noi. Il piacere appunto di avere la freschezza e la partecipazione di ragazzi giovani nella propria attività. L'arricchimento, lo scambio culturale, ma anche quasi si potrebbe dire uno scambio generazionale. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto per pochi tre mesi con le ragazze americane di Rome Alex. Abbiamo ospitato questa ragazza messicana che è venuta da noi e ha imparato diverse cose sulla nostra cultura enorme gastronomica italiana. Grazie a questo lavoro poi lei è riuscita a proporre un progetto all'università olandese e ha vinto questa borsa di studio biennale lì ad Amsterdam. Questo ci ha fatto molto piacere. Grazie a tutti.